Gentili telespettatori, buona giornata. Sulla quota 41-42, non lo so più, continua a tornare ogni due o tre mesi la Lega tira fuori, modifica la legge pensionistica italiana. Salvini è 15 anni che promette al suo elettorato di cancellare la legge attuale delle pensioni denominata legge Fornero. In 15 anni Salvini è anche governato con Draghi, con Conte, non ha mai cancellato la legge Fornero perché non si può fare, evidentemente non ci sono i soldi per mandare le persone in pensione prima, anzi tutto fa pensare che si alzerà l'età pensionabile e si diminuerà l'importo della pensione. Quindi oggi si sta andando diametralmente nel senso opposto nel quale Salvini spinge cercando di abbassare l'età pensionabile. E allora le pensa tutte, ha tirato fuori anche quota 41 light, cosa vuol dire? Che tu puoi andare in pensione con quel meccanismo ma ti daranno il 30% in meno di pensione. Difficile che la gente accetti il 30% in meno di una pensione che è da fame. Pertanto capite che saranno pochissimi quelli che eventualmente accetteranno di andare in pensione un po' prima ma col 30% in meno di soldi. E così io credo e non penso di sbagliarmi che anche se dovesse passare questa quota 41 light aderirebbero pochissime persone perché è una mezza presa in giro. È come dire io te l'ho promesso alle elezioni adesso te lo faccio ma farlo così è un po' come i treni in orario che sono in orario perché hai aumentato il tempo di percorrenza mettendoci nell'orario anche i cantieri. Adesso i treni arrivano in orario. La Frecciarossa Milano-Roma al posto che metterci tre ore ci mette quattro ore e mezza. Quindi perfettamente in orario perché dentro ci ho messo un'ora e mezza di lavoro in corso. Allora se vogliamo prendere in giro gli italiani con i treni in orario va bene. Ma anche col quota 41 che ogni tre mesi torna in voga perché bisogna far vedere agli elettori che carta canta. Insomma questa è un'altra presa in giro perché ti dico ti mando in pensione prima ma ti tolgo il 30% della pensione sei d'accordo? Beh uno dice se avessi una pensione da 3.000 euro potrei pensarci su. Piuttosto sto a casa prendo meno ma quando hai una pensione di 600 euro e ti vogliono togliere anche il 30% per mandarti in pensione prima se togli 180 euro a 600 euro perché vai in pensione prima non riesci neanche a mangiare giusto? Ecco perché la quota 41 light è una sciocchezza. Infatti le e i fratelli d'Italia e Forza Italia dicono no anche se costa poco dicono non ci sono i soldi per assumere i medici, gli infermieri, non ci sono i soldi per rinnovare i contratti e andiamo a fare il contentino perché ho promesso agli elettori che li mandavo in pensione prima e spendiamo tanti soldi per una formula 41 che poi durerà fino al 31 dicembre e in pochi ne la utilizzeranno perché il 30% dello stipendio è ridicolo da decurtare. Quindi caro Salvini come dicono a Milano lascia stare, lascia stare, lascia perdere, continuare con queste pensioni, non si può più tornare indietro. Se si fosse potuto lo avrebbero già fatto i nove governi prima della Meloni, no? Eh dai su. Sei stato al governo con Conte, con la fornaio, non hai cancellato la Fornero, perché? Ah perché non ci sono i soldi? Ah è quello il punto, è quello il punto. La Fornero non era un essere cattivo che voleva a tutti i costi mandare gli italiani in pensione a 123 anni, ha fatto quello che ha potuto, è raccontato al suo elettorato che la Fornero era il peggio del peggio, che è colpa sua agli italiani che non andavano più in pensione. In realtà è quello, avete visto che quella legge non è mai più stata cambiata. Non per mancanza di volontà, ma per mancanza di soldi, non puoi mandare come una volta le persone in pensione a 58 anni, o gli statali dopo 15 anni di lavoro, vi ricordate? Le maestri e maestre che andavano in pensione con quella che chiamavano la baby pensione, 15 anni di lavoro e poi pensione. Caspita, da 15 anni a 40 anni di lavoro c'è una bella differenza, quasi tre volte di meno. Infatti io ho conosciuto una maestra che era andata in pensione a 40 anni, o prima, forse 35 o 33 anni era già in pensione. Cominci a lavorare a 25-26 anni, eccoli. Non c'è più fortunatamente questo, però capite che gli alleati dicono lasciamo perdere, non ci sono neanche i soldi per fare sta robina qua della bandierina, mi hai votato, ti mando in pensione prima. Insomma, con una decurtazione degli assegni dal 15 al 30%. Naturalmente Giorgetti, il ministro dell'economia, dice che questi interventi devono essere coerenti con la sostenibilità complessiva della finanza pubblica. Queste cose si fanno se ci sono i soldi, voleva dire Giorgetti, ma l'ha detto in maniera molto più elegante. Eventuali interventi devono essere coerenti con la sostenibilità complessiva della finanza pubblica. Se ci sono i soldi si fa, se no niente. Pertanto non ci sono soldi, sono stati trovati nel cassetto come 25-26 miliardi, ma ne servono 50 per la finanziaria del prossimo anno. Quindi siamo a meno 25 miliardi e farci entrare dentro anche la bandierina salviniana su quota 41 proprio non va giù, né a Forza Italia, dice Alessandro Cattaneo, che sul tema pensioni dice che la nostra attenzione è sempre quella di proseguire nell'aumento delle minime. Ecco, l'aumento delle minime. Noi siamo in una situazione dove stiamo diminuendo le pensioni, perché il sistema pensionistico è allo sbando. voler aumentare le minime, anche quella è una mezza utopia. Ecco, una mezza utopia. Un caffè con utopia, come nel film di Benigni, ve lo ricordate? Un caffè con utopia. Va bene, quindi da Forza Italia, da Fratelli d'Italia dicono proprio chiaramente la stella polare e non scassare i conti pubblici. E non solo. Arrivederci a tutti e grazie.